Questa mattina all'auditorium Cianfarani a Chieti, nell'ambito dell'iniziativa per il premio Maiano, il cabarettista teatino Federico Perrotta ha incontrato gli studenti delle scuole. L'obiettivo, far conoscere ai ragazzi la grandezza del regista e sceneggiatore nato a Chieti nel 1909, che ha firmato la regia di grandi opere come Delitto e Castigo, La Cittadella. Ma anche quello di capire se Anton Giulio Maiano possa essere stato in qualche modo anticipatore di ciò che oggi la televisione ci propone. E con i ragazzi la riflessione non può che abbracciare l'argomento serie Netflix. Certo è che Maiano ha avuto l'intuito di usare il Fuiton per veicolare le grandi opere letterarie, ma soprattutto è riuscito a costruire la puntata come una storia a sé stante, agganciata con un seguito come maglie in una catena che si legano. Ovviamente proprio Maiano, che ha mostrato i suoi passi negli sceneggiati, rendendoli immortali e facendo degli episodi, probabilmente oggi sono quelli che noi vediamo su Netflix, sulle piattaforme, su Prime, su Paramount, Disney+, le abbiamo nominate tutte e così non c'è conflitto di interessi. E quindi questo mi permette di lavorare sui ragazzi per capire le differenze tra una serialità magari che aveva uno sviluppo orizzontale della storia sicuramente più lungo rispetto alla verticalità degli episodi. Maiano amava semplificare i contorni, accentuare i contrasti e poi c'era la musica. Altra grande protagonista, come ha ricordato Eugenio Bennato nella serata inaugurale al Maruccino, cantautore e autore della colonna sonora dello sceneggiato L'eredità della Priora, premiato insieme a Edoardo Siravo e a Vanessa Gravina. E di letteratura si è parlato al Museo Barbella con lo scrittore Remo Rapino, vincitore del Campiello 2020 con il romanzo Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio. che ieri sera ha presentato un monologo teatrale, Cronache dalle terre di Scarcia Fratta, edito da Minimum Fax. Un libro che gira intorno ad una voce, una voce di un ultimo abitante di un paese che ormai sta scomparendo e che dà voce a tutti gli abitanti che abitavano, che vivevano in questo paese. Un libro che vuole raccontare delle storie, ma anche con una certa nostalgia di pensare il passato, ma non tanto per rimpiangere, ma piuttosto per capire il presente e per immaginare in qualche modo il futuro. Domani sera, dalle 20 e 30 in poi, sarà possibile seguire in diretta su Rete 8 la serata di gala al Maruccino con la consegna ai premiati dell'Achille d'Argento, tra i vincitori Giancarlo Giannini, Eleonora Giorgi e Pupiavati. Grazie a tutti.